Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto su il caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù bocchi e sempre uguali, non le vedi più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprie, due santi dipinti. Mi han chiesto una stanza e io gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nel letto i lenzuoli puliti poi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto su il caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù bocchi e sempre uguali, non le vedi più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta quel grigio mattino. Se ne erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto due corpi nel letto. Lo so io non c'entro però, però non è giusto morire a vent'anni e poi proprio qui. Li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli. Le fiori e le gente, soltanto un furgone, ma da dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché. Non mi va di dare a nessuno la chiave del numero tre. Non mi va di dare a nessuno la chiave del numero tre.